E come prigioniero scendi dentro di noi per comunicarci la Tua libertà, per liberarci. O Gesù, prigioniero, nel pane e nel vino, scendi dentro di noi e liberaci. Da tutte le catene, da tutte le nostre limitatezze, da tutti i nostri vincoli, rendici liberi come Tu sei libero, per questo sei venuto, o Gesù liberatore. E qui il Padre mi ha unito, mi ha consacrato, mi ha mandato per liberare i prigionieri dalla loro carcere. E annunziare a tutti l'anno di grazia. O Gesù, noi tutti siamo prigionieri, prigionieri delle nostre passioni, prigionieri dei nostri peccati. Libereci, oh Signore, dacci la libertà. Per questo te sei venuto, per liberare i prigionieri e rimettere in libertà gli oppressi, gli stanchi, i detenuti. In questo momento, Signore, noi vogliamo ricordare tutti i prigionieri. I prigionieri degli uomini, i prigionieri della giustizia umana e della barbaria umana che soffrono. E vogliamo presentare a te tutte le famiglie colpite da questo male. Le prigionieri, le prigionieri, le prigionieri della giustizia e le prigionieri della barbaria. Ti vogliamo presentare tutti i nostri prigionieri. E allora, e lo toccò, lo riscò e disse, Pietro, alzati, alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo a lui, mettiti la cintura e legati i sandali. E così fece, e l'angelo disse, avvolgiti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credevo, infatti, che era soltanto una visione. Oltrepassarono la prima guardia e la seconda, e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città, e la porta si aprì davanti a loro, e uscirono, e percorsero una strada, e a un tratto l'angelo lo salutò, si delegò da lui. Signore, quello che avviene a Pietro, avvenga a ciascuno di noi, e la festa degli angeli. Manda l'angelo liberatore a tutti noi, perché ci faccia uscire delle nostre situazioni. manda, oh Signore, a ciascuno di noi l'angelo custode. liberi, possiamo buttare alla casa, dove ci sono gli altri radunati, e dire a tutti, sono libero, il Signore mi ha liberato. O Signore, manda i tuoi angeli questa mattina, nelle nostre prigioni individuali. Tutti abbiamo bisogno di essere liberati per le mani degli angeli. Manda i tuoi angeli, oh Signore, manda i tuoi angeli, perché tutti siamo liberati, perché le catene si sciolgono dai nostri posti, dalle nostre caviglie, e noi possiamo essere liberi. Manda gli angeli, santi, oh Signore, a liberarsi. E fa che noi, in questa festa degli angeli, guardiamo ai nostri bambini per essere come loro, angeli di Dio, nella purezza, nella santità della vita. Oh angeli, santi, venite in questo momento, venite in questo momento qui, in questo luogo che tante volte avete visitato, venite e compite la missione che Dio vi ha affidato. Popolate, oh angeli, santi, questo luogo, oggi che è la vostra festa, angeli, i nostri custodi, che siete accanto a noi, liberateci da tutte le nostre difficoltà, dirigete il nostro cuore, nella lode e insieme con noi cantate, angeli, santi, a quel Dio che vi ha messo accanto a noi, cantate a Gesù, il liberatore nostro, cantate la nostra liberazione, la nostra gioia e il nostro canto si effonda perché è il canto dei liberati, il canto degli innocenti, e il canto che alliete gli angeli del cielo e alliete tutti noi che siamo qui sulla terra. Angeli santi, cantate con noi. Sì, Noi vogliamo cantare Noi vogliamo cantare con la vostra bocca, con la vostra voce, aprite la bocca e cantate insieme a noi. Noi vogliamo cantare. Grazie a tutti. Come lo mandassi a Giaffa a chiamare Simone perché gli annunci la salvezza, la salvezza nostra e della nostra famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Venite, angeli del cielo, voi che rumini e serapini, voi troni e dominazioni, voi potestà, voi principati, voi troni virtù, voi tutti angeli di Dio. Spiriti celesti che affollate questo luogo, cantate al Signore. Grazie a tutti. 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 Ognuno di noi è un angelo. Ognuno di noi è un angelo. Ognuno di noi è un angelo. Tu ci fai camminare nei sentieri di questo mondo. E si guarda nel tuo corpo, Signore. Fa che noi guardiamo al loro posto e camminiamo rettamente nella via che tu ci hai segnato. E adesso, Signore Gesù, ve ne dici gli angeli che sono qui. Tutti i nostri bambini, questi angeli che stanno accanto a noi. E fa che noi li custodiamo e li guardiamo perché sono gli angeli che cantano a Dio e che rendono dietro le nostre case. Grazie. 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 Grazie.